Lino Banfi Lino Banfi si è avvicinato al teatro per evitare la carriera ecclesiastica consigliata dal padre. È stato prima scritturato dalla compagnia di Arturo Vetrani e poi, con lo pseudonimo di Lino Zanga, si esibisce in alcune imitazioni che lo rendono subito popolare. Lino Banfi diventa a pieno titolo professionista dell'avanspettacolo. La notorietà aumenta e si trasferisce a Roma, dove nel mitico locale Puff di Lando Fiorini, si esibisce con comici del calibro di Enrico Montessani. La sua irresistibile vergontaggia i produttori cinematografici che lo scritturarono in diverse commedie come quelle di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, anche se ancora vuole i secondari. Negli anni 70 diventa il vero cavallo di battaglia della commedia all'italiana, la sua presenza nelle pellicole dell'epoca, oltre chiaramente all'aggiunta della bella di turno, è una garanzia di incassi strepitosi. È praticamente impossibile fare un elenco dei più grandi successi dell'attore pugliese. Di certo, però, si può affermare con certezza che ha condizionato generazioni di italiani.